Oggi si è compiuto il passaggio al digitale di nuova generazione e di conseguenza abbiamo spento il trasmettitore che da Telepace faceva partire il segnale per tutti i nostri ripetitori. Non avremo più una rete di diffusione nostra ma andiamo su un'unica rete di diffusione per le televisioni locali Liguri. Da oggi anche la provincia di La Spezia ci riceve sui due canali a noi assegnati il 12 e l'85. Siamo a un punto di svolta, da ora dobbiamo ancora attendere, molti ci chiamano per perfezionare la ricezione, soprattutto negli impianti centralizzati occorre ancora sistemare qualcosa. Telepace continua al suo servizio, vi abbiamo anche detto del canale satellitare in alcune zone dove non arriva il segnale digitale terrestre e potete riceverci attraverso il canale satellitare, quello ricevibile in tutta Europa, quindi potete anche trovarci. Siamo sul tetto dove abbandoniamo le nostre antenne ed ora passeremo solo attraverso la fibra e ci potrete ricevere voi attraverso le vostre antenne e anche con tutte le applicazioni che abbiamo di carattere digitale attraverso il telefonino, internet, l'HBBTV e tutte le app che sono disponibili per raggiungervi. Telepace ci auguriamo che possa essere sempre uno strumento di servizio. Poi vi invito, ve lo ricorderemo in questi giorni, per il 30 di maggio nella chiesa di San Giacomo di Urpinara Chiavari per un momento di preghiera alla messa con il nostro Vescovo e poi un piccolo momento conviviale per festeggiare i 32 anni di vita dell'emittente. Siete tutti invitati.